Un fine settimana che rispetterà il calendario, quindi tipico dell'autunno con un anticiclone non intenso ma sufficiente per proteggerci dal grosso dei sistemi perturbati. Ci sarà qualche infiltrazione ma tutto si risolverà un po' di nuvolosità, quindi più in dettaglio prevediamo su Padova, sul Padovano. Per domani un cielo in provenienza poco nuvoloso, sereno, primissime ore in pianura, qualche banco di nebbia ma soprattutto un po' di foschia. Però ripeto, avrà la meglio poi il sole, quindi ampi rasserenamenti per domenica, un po' di infiltrazione durante la notte, le primissime ore del giorno festivo, quindi un po' di nuvolosità maggiore, un cielo in parte coperto ma poi gradualmente ma anche velocemente l'alticiclone avrà ancora la meglio, il sole scalderà e quindi avremo dei rasserenamenti. Un tipo di tempo autunnale ma direi mite, un bel tempo, un tempo stabile, ci accompagnerà per quasi tutta la prossima settimana. Intanto prossime ore, vento molto debole, di direzione variabile, temperature abbiamo detto già miti, le minime 12-14 gradi, le massime dai 21 ai 23 gradi. È tutto.